era già acceso? si no no adesso è acceso fai finta di girare il volante però quando è così non si vede niente in che senso? si vede quando giro il volante? no però è la tipica ripresa che fanno anche il formula 1 ah per cazzo se lo fanno il formula 1 no va bene roba è mosca serve solo per moscare il casco lo sponsorino qua dietro si si cioè non è che si deve vedere qualcosa deve essere una roba vabbè poi magari la regoliamo